Aumentano i contagi in Abruzzo e in particolare nella provincia dell'Aquila. Secondo l'ex sindaco del capoluogo abruzzese Massimo Cialente, medico specialista in pneumologia e medicina del lavoro, il contrasto al Covid sul territorio si può fare in due modi. Uno, le usca. Noi abbiamo avuto le usca, quattro medici qua sull'Aquilano, quattro medici o tre sulla Marsica. Quelli della Marsica lavorano molto, sono bravi, ma non fai in tempo ad andare alle case perché devi fare il tampone e in più devi visitare, ogni invisa vuol dire mettere lo scafandro, quindi è complicato. Allora tu se vuoi fare pressing a questo avversario devi avere tante usca, si tratta di pagare, ma che stai a pensare adesso a pareggiare il bilancio e l'ASDA? Poi la cosa più importante è il tracciamento. Perché saltare il meccanismo? Primo, ti faccio il tampone in ritardo rispetto alla comparsa dei sintomi perché l'USCA va in ritardo. Secondo, se faccio il tampone e l'ASDA lo manda a Pescara, il 2 novembre sono arrivati i tamponi del 23 ottobre. Quindi io, che sto a casa dal 23 ottobre con la mia famiglia, la mia famiglia a quel punto non sa se può uscire. Sulla carta possono uscire. Avete capito com'è saltato il meccanismo? Il numero verde ha 3.000 numeri in coda. L'epidemia che è scoppiata soprattutto i giorni delle famose due feste dell'Octoberfest. Nella Marsica girava ed è poi entrato al Don Orione, che vuol dire tutto un mondo che gira intorno al Don Orione. E ci abbiamo gli ospedali che non sono pronti. Noi stiamo curando gente che rispetto alle linee guida dovrebbe essere ricoverata, che viene curata a casa, sperando che vada bene. L'ospedale non ha più posti. La mia preoccupazione però adesso è questa. Noi stiamo andando nella forma di lockdown. Ammettiamo che adesso funzioni, ma poi ci sarà di nuovo un'ondata. Allora, l'unico modo è quello di provare a fare, ad esempio obbligando i muni. Io non ti faccio entrare. Se tu non c'hai i muni, tu dentro la discoteca non entri, al ristorante non entri. Adesso la mia paura, dicevo, è di fare uno stop and go. Noi facciamo il lockdown, perché a Milano di fatto è quasi un lockdown. Rescendono i contagi, riapri un pochettino, risalgono i contagi, richiudi. Allora, si deve cominciare a fare il meccanismo del tracciamento. Abbiamo migliaia di giovani medici specializzanti, o che non sono manco entrati nella specializzazione. Le mettiamo, prendiamo un chiosco, via, lo svuotiamo, lo liquidiamo, voglio dire, e ti metti a fare i test rapidi, che sono meno sensibili, ma ti permettono di fare uno screening.